Il lato non è giusto e con l'ansia fa Sentire l'impianto da un fuoco La danza fa quasi quella figa Questa l'impianto è il lato E il lato non è giusto e con l'ansia fa E il fattore è giusto e con l'ansia fa E il fattore è giusto e con l'ansia fa E il fattore è giusto e con l'ansia fa grazie a tutti 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 24 ore, a qui utilizza la mia età l'onore non partire il suo futuro pepe, l'onore a facture il tuo pepe, a qui tazzo, a qui l'ango, ma a qui utilizza la capacità a la sua, a quel que l'isso a choisi la l'accessione a qui utilizza jusqu'à 4e, 5e, 15e bureau a qui utilizza la l'accessione, 15e bureau e a qui foute ta pepe a qui utilizza la l'accessione se dice che sei il fatto mai è vero io sì perché si no 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 Grazie. e non l'erroca non a tutti e nerca tu a panzoni lani il y a ketamma all'eggine la torse richi maga a changi bagi la etia en azabu fai ta comprend du jour au lendemain a changi a technicien baba ti miso mi disa temparapone a lozo so na quel anni na quel anni la la debiti su po a si su la patacela tu me rappelles qui encore na debiti pouvoir te patacela baba si mi logo chef service maturale l'équipa doming ave logo anto douala ou ali qui alimenter son tra de douala tigana maturil rien agazol et tout faire fonctionner son tra de bong logo logo doming capel du jour au lendemain azile la corpace logo ya koma le mana du poulo maintenant agon bi alabéni bar a remplacé logo saucisse logo alabati parlo adingala wangak batik feran sapelle de dianga per du si Non, non. In questo modo, il risumiamo che il nostro lavoro di gestione. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non il problema di codonti è anemici in realtà in realtà il problema di codonti è un problema morale perché il problema di finanziere è un problema di codonti è un problema morale perché ci sono i problemi morale perché gli ang ADM edacak sono sempre i problemi in fonti motivationsi quindi con la città erano i problemi politici l'altro che si sunt inouring poi sono i problemi morali la moralità è a un problema di codontiani aki n'yoni a fa. Bon. Ti fè fass la probleme morale ma come ingani aki yesu aki n'kanko mingi. Aki impossible. Ma è bimbole timo la donne e bitenne yesu si a lì biti sara. Aki yesu si a mondia e in a tenne doing business. Ma è na yati kodoti e aki n'kanko ti aplike yesu aki n'a tenne principi doing business parce que j'ai un programe du moral aki da bo doing business aki so ton an apenni proje aki da aki calcule a quel momo processus di proje na ke komanse na quel momo a lì mì tè a ianizè proje i fou a calcule aki sara ni aki anisou aki n'a tati kwa ni mèto a mou banati kodotou aki sambele proje si aki si na feina pengizani a n'bana le djouza et tounè aki so so di fazo aki sara ke jere a proje n'ati kodotou aki 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 sara ke na moralite so koujeni kwa aki toute donk timbiyin bitene il fou te ke a komanse di sambele il fou a ianizè mokio moralite tajou na yati a administratio tani na yati amde toulana a inek kajou na yati a ministè so ke jere a adunana apel di inek kajou il fou assenizè mokio mokio me ke chos poje so aki ianizè mokio ianizè 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 babati ianizè ianizè se mo django la django ne pardonne pas mo sarah ianizè babakote mokio léquer d'abattmo ianizè 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 lama bec maman djano djano hanizè ianizè 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 chan hai ianizè te se m societ we Voi 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 Grazie a tutti. 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 che. 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 a tutti. a tutti. che. a tutti. 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 fai sede. a tutti. a tutti. a tutti. Pasa Cookle. allora ci sono individuali un образом. aumentare la 건강 disperte. y si okadrotti alla giovane. questo imparso. a tutti. poi è lo danno. sei priv inspira 4 domande. sono raggi quindi autobем CA. privilegesi membri. ma direi me AJO. alla. più di video. Se mi fa male, metti insieme a Keke. Non è problema. Grazie per te, Végis Napoli, la mia! La mia famiglia, la mia famiglia, il proprio il nostro territorio, il proprio reale, il proprio miliardario, ilrodolo. La mia famiglia è la famiglia della famiglia. ma in un'altra famiglia, Nel dottore, a parlato di queste parole in Italia come i appartamenti a rispondre la tua esperienza. Come i testi che non i te portano come le viali. An청a la primavera delle persone del chieno, come i amici? Allo? Sì, Allo? Assessi che ci si l'avete di far more La mia famiglia è la mia famiglia? Ma ningu da come la mia famiglia? Ah, ma come la mia famiglia è la mia famiglia? Sì. Grazie a tutti i ragazzi sono tubo ha riconoscire insercire in riconoscire si riconoscire siano scuole c'est che risca un riconoscire si e la cimina turu kudata a raggiungo bennatel singula bon ton sol ma sagina e tendite ilo tipo a serrbilioti ti lasso e kitendi wadi dada inna emission directe la jove mamma directe tendi wadi dada so aga paraba ando so mode eforoto moxigna gatti begesmo di combattia tonne waga d'appel ma lasso waga d'appel moba imaginer ammurin getti ati a un bambini so che kassu yena getone tetti betimo getone ah singe la menge etatine roto gamaite la so en fait angirano le disque m'ont touché si j'ai towa si j'ai towa so che un gang problemi di bigona banki bigona banki di la wapita a trovato non pas progetti a sont trafè un progetto un progetto derasol ma ma na ton so dima tete na kongi wwa a wuli aki koto komple wwa aki na sécurite me lasso wwa aki na bongi pepe na ben i scepter a da so wwa ki gaga 2h par jour ma na sissem towa so e sécurite a peu tibes s konga nane a zene si koro si kekere ke amle nge aki tikombetit tonga nane orga eswa entreprise aki emploii na sondagic konga nane ton a lafant d'intensi nane i sondagic konga nane ma il y a orgoi nane La cosa è piccola che aveva, un governo che aveva un circadso di contretti per farlo di ricorre, perché non politiche, non è un'entreprenso. Perché non c'è un'entreprenso. Non c'è un'entreprenso che non vengono. Non c'è un'entreprenso di creare un'entreprenso. Perché non c'è un'entreprenso di creare un'entreprenso. Ora siamo tornati a cambiare il comportamento. Non, 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 non. Non, 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 non. si tu hai un collaboratore di energia eolica che sta pozzoncento, tu hai un collaboratore di energia, che dichio un panel saur, quindi tu hai des atmosfera di tanti ecola, che sono un sviluppo del grande strumento, quindi abbiamo trovato questo molto importantissimo, gli abbiamo detto che tutti i numeri e il per se passiamo alla OZIT, Sì Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. che... ? che... ... 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 si ha si lì lasso pepe ha si depuis in gacca kemeni sistema si ha kefacò ti bella wassi piti soiree sistema nihzo la wala idati kundida system il tenen banchoni imutapande ti ha pialo par exemple goro bihan angol è so le moji posizione le poser pierre ti 18 mois ti chance ti pano solaire c'è la 40 Mw inaugurata da 18 mesi fino alla per 25 anni e per tanto non più di 2 anni questo progetti la nostra ricerca rinnovazione finita abbiamo guardato 2 adesso è 6 mesi da monite delineo grazie 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 Questo è il nostro canale che vi raccogliono, è il nostro canale, è il nostro canale. quindi tutto la guacca mi ha detto che ti ho capito ma non Non, 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 non. non il 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.